In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur. Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Continua la lettura dell'Imitazione di Cristo, libro primo, capo ventiquattresimo, del giudizio e delle pene dei peccatori. In tutte le cose pensa al fine, pensa che ti troverai davanti a un giudice severo, al quale nulla è nascosto, il quale non si placa con doni, né riceve scuse, ma giudicherà ciò che è giusto. O misero e stolto peccatore, che cosa risponderai a Dio, il quale conosce tutti i tuoi mali, tu che talvolta paventi il volto d'un uomo irato? Perché non ti provvedi per il giorno del giudizio, quando nessuno potrà essere scusato o difeso da altri? Ma ciascuno avrà abbastanza da fare per sé. Adesso il tuo travaglio è fecondo, accettevole il pianto, ascoltato il gemito, il dolore soddisfattorio e purgativo. Ha un grande e salutare purgatorio l'uomo paziente, il quale, ricevendo le ingiurie, si addolora più della malvagità altrui che dell'offesa propria. Prega volentieri per coloro che lo contrariano, e di cuore perdona le loro colpe. Non indugia a chiedere perdono, più facilmente si muove a compassione che a dira. Fa spesso violenza a sé medesimo, e procura di assoggettare interamente la carne allo spirito. È meglio purgare adesso i peccati e sradicare i vizi, anziché lasciarli da purgare in avvenire. Veramente noi ci illudiamo per l'amore disordinato che portiamo alle cose sensibili. Che altro divorerà il fuoco se non i tuoi peccati? Quanto più ti risparmi adesso e segui ciecamente i tuoi istinti, tanto più duramente dovrai espiare di poi, e tanto maggiore materia tu serbi alle fiamme. Nelle cose in cui l'uomo ha peccato, in esse sarà più gravemente punito. Colà i pigri saranno stimolati da pungoli ardenti, e i golosi tormentati da fame e sete acerbissima. Colà i lussuriosi e gli amatori di voluttà saranno volti in pece e infetti d'ozolfo. I furiosi e gli invidiosi manderanno, come cani, urulati di dolore. Non vi sarà vizio che non abbia il proprio tormento. Colà i superbi saranno ripieni di ogni confusione, e gli avari saranno angustiati dalla più misera indigenza. Sarà più grave, colà un'ora sola di pena, che non siano qui cent'anni d'amarissima penitenza. Qui almeno vi è qualche sosta dai travagli, e si gode talora del conforto degli amici. La ha né un riposo, né una consolazione ai dannati. Sii ora sollecito e dolente per i tuoi peccati, affinché tu sia sicuro coi beati nel giorno del giudizio. Poiché allora i giusti saranno con grande costanza davanti a coloro che ti angustiarono e li oppressero. Allora siederà a giudicare colui che ora si sottopose umilmente a giudizi degli uomini. Allora avrà grande fiducia il povero e l'umile, e il superbo paventerà da ogni parte. Allora si riconoscerà essere stato sapiente in questo mondo colui che imparò ad essere stolto e spregiato per Cristo. Allora tornerà cara ogni tribolazione pazientemente sofferta, ed ogni iniquità chiuderà la sua bocca. Allora esulterà ogni devoto, ed ogni irreligioso sarà triste. Allora la carne domata ed afflitta sarà più lieta che se fosse stata sempre nutrita in mezzo alle delizie. Allora l'abito grossolano diventerà risplendente, e la veste fine diverrà tenebrosa. Allora sarà più lodato il povero abituro che il palaggio dorato. Allora sarà più utile la costanza nel soffrire che tutta la potenza del mondo. Allora sarà più esaltata la semplice obbedienza che tutta l'accortezza del secolo. Allora darà maggiore letizia la pura e buona coscienza che la dotta filosofia. Allora varrà più il dispregio delle ricchezze che non valgano tutti i tesori della terra. Allora sarai più lieto d'aver pregato devotamente che d'aver mangiato cibi squisiti. Allora godrai più d'aver serbato il silenzio che di avere molto parlato. Allora varranno più le opere sante che molte belle parole. Allora darà gioia maggiore la vita severa e la rigorosa penitenza che tutti i diletti terreni. Impara a soffrire adesso delle cose piccole affinché tu possa essere liberato allora dalle più gravi. Prova prima qua giù di che cosa tu sia capace. Se adesso puoi sopportare sì poco come potrai sostenere i tormenti eterni. Se adesso un piccolo dolore ti fa così impaziente che farà allora la genna. Ecco che veramente tu non puoi avere due gioie di lettarti in questo mondo e regnare poi con Cristo. Supponiamo che fino ad oggi tu fossi sempre vissuto negli onori e nelle voluttà. A che ti avrebbe giovato tutto questo se dovessi morire in questo istante? Tutte le cose dunque sono vanità forché amar Dio e servire Lui solo. Chi ama Dio con tutto il cuore non teme né la morte né i supplizi né il giudizio né l'inferno perché l'amore perfetto ci fa andare a Dio con fiducia. Ma colui che trova ancora di letto nel peccare non è a stupire che tema la morte e il giudizio. E' però bene che se ancora non ti distoglie dal male l'amore ti rattenga almeno il timore dei tormenti. Quegli poi che rigetta il timore di Dio non potrà durare lungo nel bene ma incorrerà ben presto nei lacci del demonio. Daudetur Iesus Christus, semper Daudetur, in nomine Patris et Fili et Spiritus Santi.